Non so se vi siete resi conto, ma le tasche piene di carte che gli hanno dato sul Veneto. Sono verità queste, mi fanno male, sono verità queste. Ma che verità? Se voi te le leggo le tue carte, te le leggo se voi. Tira le fuori tutte queste carte. Te le leggo, sì, perché questa è la verità. Ma di tuo, non è la tribuna politica sulle elezioni in Veneto. È la verità contro i tuoi slogan, questa è la verità. Di tuo, dal tuo cervello esce qualcosa, è bisogno delle carte. È la verità dei dati, i soldi che avete intascato senza fare nulla. Metti in tasca quelle carte. Questi sono i soldi che avete intascato senza fare nulla. Cosa abbiamo intascato? Adesso lo dici. Avete intascato i soldi senza fare nulla, capito? Scusa, adesso pretendo che tu dica che soldi abbiamo intascato. Allora, il fondo per le politiche sociali, dov'è in Veneto? Quale fondo? L'accordo che hai firmato con il governo, non l'hai fatto in questo accordo. Non ho firmato nessun accordo. Io parlo ma non interrompo, vediamo se è vero o no. Hai firmato un accordo con il governo italiano per prenderti una quota di profughi? No, no, tira fuori la carta. Sì o no? Non avete firmato un accordo in tutte le regioni, nel tavolo stato e regioni? Mostraci la carta. Come puoi annegare questo? Ma dov'è la carta con la mia firma? Allora, il 10 luglio 2014 che non avete fatto l'accordo? Dov'è la carta con la mia firma? Dillo! Ma basta andare su internet, andate su internet, non c'è, non c'è, N.O. Allora scarichi sull'arresto dei profughi, gli scarichi sull'arresto d'Italia. Ah, stai cambiando versione? No, perché stai dicendo una bugia. Ma dai, dai. Leggela qua, guarda, dai, legge. E dove c'è scritto? Ma la conosco? Il 10 luglio 2014, conferenza onificata, l'accordo su altre regioni. Venditela, perché sono soldi che hai preso e rubato. Allora, riusciamo ad andare, scusa, è caduta la carne. No, è una bugia. Avete firmato un accordo, tutte le regioni, tutti i scarichi sull'arresto d'Italia. Io non ho firmato nessuno di un accordo. Sì, invece. C'è un verbale che dice che ho votato contro la conferenza di Presidente. Assolutamente no. Quando ti danno le carte te le devi far spiegare. Assolutamente no. Te le devi far spiegare. Assolutamente no, è una bugia. Ma non esuna, è qualcosa. brai fra. Grazie. Grazie, yogurt,Estelle.